Eccoci qua in parte della brigata della griffa, lo chef Lambiasmi, Credella, Francesco Bruscoloni, Daniel Boi dalla Sardegna. Allora, con il nuovo menù noi abbiamo impostato tutto un po' con il sottovuoto, con questa macchina qua, questo è un bagno termostatico, dove in pratica facciamo tutte le nostre cotture. Perché se la cosa non è buona, chi ce lo fa fare, no? I piatti che facciamo, il sottovuoto, dagli antipasti, ma tutto, stiamo facendo tutto con il sottovuoto. E perciò, cari signori, abituatevi, voi in cucina, se volete essere moderni, se volete abbattere la carica batterica, se volete essere puliti, se volete avere più shelf life, si dice così, usate il sottovuoto. Se poi questo sottovuoto è di questa marca qui. Benvenga, no, Credella, lei che dice? Sì, sono d'accordo. Benissimo. Adesso mettiamo anche delle foto dei piatti. Grazie, Lambiasmi. Di niente. Credella, Bruscoloni. Vedeteci. E venite a trovarci alla griffa. Di bordo.